Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di pulizie motivazionali ho sempre qualche problema con questa asciugatrice certe volte mi ricordo levo i pelucchi prima certe volte non me lo ricordo e tiro fuori la roba con i pelucchi ancora attaccati lì e quindi me li tiro dietro comunque in questo video vedrete pulizie varie quindi bucato prettamente faccio 2-3 lavatrici al giorno col bullet journal mi sto aiutando per farne almeno sempre 2 ma in questo caso tipo lunedì ne ho riuscita a fare addirittura 4 ma poi ci sono anche stati giorni che non ne ho fatte quindi alla fine sono stata lì sulla linea e niente poi vedrete la sistemazione della sala e cercherò di accoppiare un pochettino di calze inoltre vedrete anche che inizierò a levare le decorazioni natalizie dalla sala mentre invece dalla cucina le leverò la prossima settimana e niente io adesso vi lascio al video e ci sentiamo poi alla fine e ci sentiamo poi a cercherò di calze 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.